Dobbiamo creare una coalizione di europei disposti ad investire nella sanità tecnologica e dal 2020 a renderla una realtà. Con queste parole la Presidente della Repubblica di Estonia ha concluso i lavori della Health Conference di Tallinn, un appuntamento fondamentale che segnerà una pietra miliare nello sviluppo del sistema sanitario del futuro. La conferenza è uno dei momenti più importanti del semestre di Presidenza Europea della Repubblica Baltica ed ha visto presente anche la campagna con Soresa, due giorni di dibattiti e scambi di esperienze che hanno tracciato una rete ancora più forte, quella coalizione appunto di cui ha parlato la Presidente e di cui la campagna deve farne assolutamente parte. Un appuntamento che vede Soresa entrare in questo nuovo network della sanità digitale, un appuntamento che si fa qui a Tallinn, la cui cosa divesse carattere di ancora maggiore importanza, non solo perché l'Estonia ha il semestre di Presidenza Europea, ma perché ha dimostrato nel corso degli anni che pur partendo da una situazione di profonda crisi un Paese può rialzare la testa e porsi all'avanguardia in Europa e nel mondo, cosa che dovrebbe fare il Sud Italia e soprattutto la nostra campagna che con questo nuovo governo si propone un rilancio immediato dell'intero sistema sanitario. Il Presidente Porcelli ha incontrato i responsabili dei maggiori network internazionali della cooperazione sanitaria che promuovono lo sviluppo comune, come Etel e le CAC Allianz, di cui ormai parte integrante e anche capofile in alcuni progetti. Ha esposto ai rappresentanti del governo Estone le priorità della campagna. L'occasione è stata poi anche utile per tracciare un primo bilancio delle cose fatte in questi primi due anni di mandato. Il primo obiettivo è stato quello di fare gare efficienti che hanno consentito di effettuare risparmi importanti per i cittadini campani, risparmi che saranno investiti in nuovi servizi per la sanità. Il secondo è stato quello di farle in maniera assolutamente trasparente. Abbiamo sottoscritto un protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANA che è un protocollo di intesa con la Federico II. Non ultimo quello dell'innovazione tecnologica.